Le aspettative sono quelle di fare un campionato all'altezza, un campionato che ci possa vedere protagonisti dall'inizio alla fine. Il campionato è difficilissimo, però la società ha le idee chiare, ha le intenzioni chiare, quindi cercheremo di fare il meglio per essere una squadra protagonista. Sicuramente la priorità che abbiamo in questi giorni sono quelle di trovare i cosiddetti under bravi, anche se a me piace poco parlare di vecchi e giovani e fare queste distinzioni, però qui ce lo impone il regolamento, quindi stiamo valutando qualche profilo di ragazzo che possa essere idoneo al modo di pensare del calcio del mister. A parte i nostri, Sieno e Dick Devicius, che faranno parte della Rosa, abbiamo trovato l'accordo con Pietro Antonio del Pescara, che dell'altro anno era a Chiedi, con Dania, un ragazzo esterno del Palermo e anche Cagliardini, un 96 difensore centrale che stava alla Torres. Questi sono quelli che in questo momento abbiamo già la sicurezza di avere con noi, poi stiamo lavorando per portarne altri. Però ovviamente ci stiamo anche muovendo sui cosiddetti grandi, dovremo cercare di trovare degli uomini veri che sappiano guidare questa barca fino alla fine.